ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato a voi che state guardando eccoci qua per un'altra simpatica puntatella che vede voi come affabili protagonisti e io come gioviale telespettatore siamo tutti veramente come dire dolci in questo periodo si avvicinano le feste anzi vi ricordo che poi quando ci saranno le feste ci sarà il natale voglio vedere le vostre cartoline dalle vacanze intese come video davanti all'albero oppure sulla neve davanti al presepe queste cose qua così simpatiche poi verso dicembre però non ora insomma stiamo dicendo a tele voi che diventate protagonisti con i vostri orologioni come al solito noi ce li guardiamo noi perché plurale maiestatis io e la mia amica scimmietta qua la mia giovannetta la scimmietta si chiama così e ci guardiamo i video e decidiamo poi in futuro come muoverci no in questo simpatico hobby noi decidiamo quale percorso intraprendere il prossimo è questo no è questo questo qua va venduto quando dico questo qua va venduto lei incomincia ad avere una fibrillazione perché non riesce a separarsi proprio dagli orologi non ci non ci si riesce no proprio il volere averli il possesso è molto più forte del desiderio di averne un altro perché a volte si dice ne vendo uno ne compro uno no non può esistere se ne vendi uno ne devi comprare due mi dice capito ultimamente l'ho anche fatto va bene dai a parte i discorsi del manga che come la legge del manga la sapete non vuole non lo sapete va bene e l'orologio del giorno è questo simpaticissimo logini idroconquest del 2014 circa dico circa perché potrebbe essere del 13 o del 15 sono questi due anni tre nei quali è stato prodotto calibro l 619 eta 28 92 in pratica ghiera rossa quadrante nero 41 mm di diametro cassa orologio che mi eleva allo status di vero appassionato questo l'ho deciso io qua seduta stante perché altrimenti non è così è una bagianata per non dire puttanata però noi ci divertiamo con poco il ditino inquisitore è pronto sia a inquisire a giudicarvi che a dare il colpetto qua sulla barra spaziatrice che ormai lei lo sa fuoco fuoco buonasera davide sera io volevo mostrarti la mia piccola collezione di orologi certo prima di iniziare ci tenevo a farti complimenti per il canale ringraziarsi per continuare ad alimentare la passione di noi appassionati grazie comincio mostrandoti due giocattolini due quarzoni che sono ormai gli ormai noti swatch in collaborazione con omega e ne ho due sono caduto due volte in questa tentazione buttali via spaccali magari però volevo mostrarti uno che è un po più particolare che nel canale non l'ho ancora visto che questo swatch per black pan questo è movimento automatico e niente insomma un po più insolito ne ancora visto nel canale li prendi tutti è proprio bravo come diceva cicciolina inizio con gli orologi un po più importanti abbiamo questo tagoyer carrera top cronografo orologio molto versatile adatto sia come orologio di tutti i giorni che molto versati questo qua sarà un 44 43 mi sa che è grossino questo qua e poi bianco così da tutti i giorni va bene se lo vuoi utilizzare tutti i giorni va anche bene ma non sarebbe proprio il classico orologio deputato vai dove vuoi fai quello che vuoi no cronografo va bene come orologio sportivo possiedo sia il cinturino in pelle che quello che quello in acciaio è veramente un un gran bello orologio certo poi poi ti presento questo amilton jazz master maestro e 45 millimetri di diametro 45 millimetri di diametro cioè praticamente allo stesso calibro di quell'altro cioè ti piacciono i contatori a ore 12 ore 6 stiamo parlando dei 77 50 ce l'ho avuto anch'io sto qua ce l'ho avuto anch'io il mio proprio piccoli secondi a ore 9 stilizzati ma ce li aveva da 45 l'ho avuto l'amilton jazz master maestro da 45 non così bianco e dorato ciavo nero con i con i numeri color acciaio impiegativo pesante cassa movimento 77 50 forse questo un po troppo grande per il mio polso ma comunque un gran bell'orologio cioè cinturino in pelle insomma adatto però ogni occasione dei giorni sempre tutti i giorni sono adatti tanto poi poi ti presento l'ormai il topolo diffuso omega speed master questo con movimento 18 61 anche in questo caso come per il tagoyer possiedo sia il suo cinturino originale in pelle che il suo bracciale in in acciaio e orologio iconico che ormai conosciamo in tutte le sue tutte le sue caratteristiche e forse ecco la carica manuale non è molto pratica o comunque è quello che ho sempre detto io cioè tra tutti gli orologi che ho caricare manualmente questo qua è quello che mi da più non fastidio e mi crea più difficoltà cioè mi sfugge è abbastanza rigida no ora a vederlo così col bracciale mi è venuto voglia di rindossarlo col bracciale perché io gli ho montato il nato messo il nato e per l'estate andava benissimo col nato bello leggero al polso adesso per l'inverno quasi quasi ci rimetto questo qua però ci avrei anche quello che mi ha fatto l'amico john kustraps in nabucco e in coccodrillo nabucato che ci stava proprio bene mi sa che ci rimetto anzi quello lì di di coccodrillo va bene vediamo dai è un orologio super versatile anche questo è adatto in ogni occasione tutti adatti ogni occasione tutti infine ti mostro un altro tagoyer adatto a tutte le occasioni che non ho mai visto sul canale parliamo di questo tagoyer gran carrera la particolarità di questo orologio è il fatto che l'indicatore dei secondi l'indicatore cronografico è caratterizzato dal movimento del del rotore e non della della lancetta un orologio in titanio estremamente leggero e anche abbastanza raro che cosa vuol dire non ho non ho mai visto sul canale capire un bel orologio anche questo qui non capito ecco questa era la mia piccola collezione e ti ringrazio e buona giornata allora ragazzi vado un attimino indietro perché voglio vedere cosa dice cosa dice lui su questa roba confondo che non ho capito cos'è quindi ce la riguardiamo assieme così mi aiutate partiamo qua dai 240 e non ho mai visto sul canale parliamo di questo tagoyer gran carrera gran carrera la particolarità di questo orologio è il fatto che l'indicatore dei secondi l'indicatore cronografico è caratterizzato dal movimento del 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 rotore e non della della la lancetta un orologio in titanio estremamente leggero e ho capito ho capito ho capito ho capito il rotore non intende quelle lì che sono sul quadrantino perché io il rotore pensavo la massa oscillante che è dietro praticamente le due lancette che vediamo orizzontali rosse rimangono fisse ferme quando diamo la via il cronografo si muovono anzi quelle mezze lunedì che sono sul quadrante si muovono per dare il tempo che sta trascorrendo ottima idea beh non ci avevo mai pensato di una cosa del genere potevi farcelo vedere in funzione né gnè gnè ce lo facevi vedere in funzione così capivamo subito senza dover tornare indietro e bla 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 comunque dai abbiamo capito due due carrera e uno particolare strano gli stavo per sputare un occhio a questo qua ultimo invece mi ha un po ribaltato la situazione con questa roba qua ma a parte che nero così non mi piace non non fa non fa parte del mio però è interessante è bello sì te lo promuovo anche se lì per lì sembrava uno smile qualsiasi beh jazz master tutti i cronografi hai tutti i cronografi che ti ritieni adatti ad ogni occasione everyday watch date una rbagliata perché non sarebbe proprio così però per tutti questi quattro cronografi che hai ti do un bel sette sette te lo do naturalmente la quantità è limitata quattro orologi però su quattro cronografi con i controscatoloni che quindi non gli posso neppure dire niente complimenti per la tua passione per i cronografi e il ditino inquisitore se ne va a cuccia bravo quattro sette quattro orologi sette prossimo video buonasera davido un saluto che ci sta seguendo io sono claudio questo è il secondo video che ti mando quest'anno bravo e repercorrendo un po la collezione volevo mostrarvi alcune delle novità degli ultimi mesi partendo con le novità meno interessanti cito questo pro master con quadrante blu classica questo con quadrante degrade giallo che si è visto mille volte sul canale visto talmente tante volte che alla fine ho dovuto prenderlo anche io e questo vostro gran fibria con quadrante 24 ore senza nessun disegno piccolo logo ore 12 linea molto pulita non l'avevo mai visto così l'ho trovato online e l'ho fatto mio per provare la qualità di vostro ai prezzi di vostro giusto per citarla questa scatola con un po di misto ci sono un paio di fashion watch che mi sono stati regalati questo pier bonnet invece mi fu regalato da piccolo per la cresima mi sembra c'è armari ricordi da tenere sempre l'unico particolare che volevo farti vedere l'avevo mostrato questa vetta automatico da guida a tenere sul fianco del polso per avere l'ora visibile senza togliere le mani dal volante spettacolo questa scatola con alcuni degli orologi più piccoli che ho sono presenti questo fine triangolare che già ti avevo mostrato così come l'emilton pacer primo orologio elettrico della storia e una redizione del sessantesimo anniversario in questo caso già si chiamava chiaramente ventura novità di qualche settimana fa lord elgin saltarello carica manuale cassa completamente rifatta al mio orologiaio che è anche chiaramente restauratore bravo lo scevrona aveva perso spigolosità è completamente smussato gli ha ridato forma allaccato la scritta previsionato il calibro e io aggiunto gran fortuna ve l'ho trovato questo cinturino scamosciato originale dell'epoca mai usato bravo e di questo lord elgin fortuna vuole c'era anche la scatoletta in lucite in tonsa praticamente c'è questa essere fischiante con ancora alcuni dei suoi documenti ed è stata proprio la scatoletta a non fermarmi davanti all'acquisto perché questa è una vera rarità dell'epoca bravo la mia enorme passione non ci sono novità in questa scatola ti do un top proprio generale per solamente per questa immagine qua che mi facendo una scatola con 1 2 3 4 5 6 7 8 6 24 orologi messi lì sono una scatola perché poi tutte le altre che ti metti un top proprio così in via del tutto cioè così globale ma sono tutti acutron questa è una malattia ragazzi guarda qua tutti acutron poi si passa agli altri simpaticissimi che sono di sua destra che non so non ho idea di cosa siano perché se non ce li spieghi a parte questo asimmetrico del 71 revisionato in condizioni in ossa ancora con il corso adesivo sul retro della cassa per il resto siamo ancora nella stessa situazione in questa scatola gli altri miei bulova 4 computo anche già avevo mostrato 1976 qui quattro questi invece sono due eredizioni questa l'avevo già questa nera invece una di cave limitate che ho aggiunto successivamente negli scorsi giorni invece mi è arrivato c'erano graffer automatico impermeabile 100 metri ma l'impermeabilità ormai si è persa cassa placata in oro lavorazione soleil la cassa non è perfetta per lo meno per i miei canoni però essendo appena arrivato me lo godrò un po prima di mandarlo in restauro da utilizzare più spesso come acutron opereso è arrivato anche questa scorsa settimana questo calibro 218 del 1969 una cassa classica dell'epoca riproposta da molti marchi un design molto più semplice di molti miei altri acutron meno portabili molto meno portabili ma che ho cercato tantissimo perché è estremamente raro questo saltarello con calibro 218 in condizioni notevoli quasi perfetto ci ho impiegato più o meno due anni a trovarlo come dicevo io e sono molto soddisfatto tra l'altro è già revisionato e questo mi fa risparmiare un sacco di soldini il che non guasta mai oltre a bulova la mia grande passione è vera vera si può anche abbastanza vedere che avevo già mostrato i miei tre tazzi nuvolari prima serie classico il grand tile e il rattrapanto di tartaruga aperta avevi notato i miei quattro crono 4 il due temerario il primissimo che questo è adattato 2003 l'acquisto e il è un color giallo lo facevano giallo rosso e nero aggiunte nuove sono questo criterium fine anni 80 inizio 90 calibro etta 2801 modificato regolatore molto particolare per questo motivo l'ho preso perché anche esteticamente il quadrante ricorda molto i venus 140 un calibro che io adoro che ho mostrato un galleto lo vediamo l'ultima scatola giusto come promemoria poi ho aggiunto uno shantygraph solo tempo il cronografo non mi fa impazzire non ve lo mostro lo shantygraph lo conoscete vi mostro invece questa meraviglia io io lo amo questo alloggio lo amo questo è uno dei primi cronografi di ebayard con il cronografo d'oporso di ebayard chiaramente aveva fatto cronografi non da tasca ecco questo è il quadrante in porcellana quadrante in tonso rarissimo da trovare così è arrivato in condizioni pietose ansi rotte la corona era sbagliata aveva dei danni sulla parte posteriore il mio orologiaio quello che aveva che come avete visto ha sistemato meraviglia il lord elgin mi ha riportato nuovo anche questo orologio che è in oro caratteristica fondamentale di questo orologio è che si può aprire sia davanti che dietro vedete che ci sono le due cerniere non sto qua ad aprirlo perché poi col guanto diventa un po un caos il calibro è l'ebert il 1600 viene nominato in entrambi i modi lo metto qui a fianco invece a quello che già avevo questo del 1920 che vi abbiamo mostrato questo invece del 1919 sempre quadrante in porcellana condizioni eccezionali entrambi chiaramente come tutti i miei orologi sono revisionati il primissimo che è questo però aveva l'apertura solo sul fondello questi sono due chicche che non uso questo l'ho usato giusto al battesimo di mia figlia e non credo che li utilizzerò mai più se non in simili occasioni importanti nel diciamo nel futuro perché per un appassionato di aver come sono io questi sono fondamentali da avere sempre in condizioni perfette in questa scatola invece ci sono le novità più gustose nel viso a questo è il galle con 140 che ti avevo nominato prima e ti avevo già mostrato un altro video allora arrivo degli ultimi mesi non avevo ancora un login in collezione non avevo un trench watch quindi ambo l'onjin trench watch del 1920 cerniera che mostra l'apertura della parte posteriore del fondello il quadrante in ceramica quadrante in tonso la cassa è praticamente perfetta corone originale olio estratto d'archivio e quant'altro il cinturino è stato fatto su misura dal presente proprietario a molti non dirà granché ma io lo trovo di grande novità sono sicuramente in casa brightlink ti avevo già mostrato questo top time del 67 questo cronomat regatta con il modulo tc il cinturino adesso ha un bel che lo rende bello pesante bello pesante al polso peccato perché è un mattone del genere tutti i giorni faticoso da portare è faticoso è fastidioso con in realtà allora cosa ho fatto preso il calisto il design fondamentalmente è il medesimo anch'esso con il ruolo con inserti dorati che ben si sposano con i cavalieri più adatti al mio polso da 17 e mezzo perché comunque il diametro da 36 è perfetto e oltretutto oltre al fatto di non averlo in collezione quindi ci voleva il caldo è le mani a 1873 che è sostanzialmente quello del moonwatch quindi gran bell'orologio molto portabile e calibro degno di nota però l'arrivo migliore casa crono in casa brightlink è sicuramente questo cronomat 729 prima serie di cronomat l'ho scelto con cassa in oro 18 carati un po più prezioso meno sportivo se così vogliamo dire delle controparti anche controparti in acciaio dell'epoca quadrante in tonso è rarissimo trovarlo in queste condizioni chiaramente originale perché questi quadranti sopravvivono tantissimo umidità quindi questo orologio è stato conservato in maniera adeguata o comunque la fortuna l'ha assistito corona logata alcuni lo avevano altri no fibbia successiva se qualcuno sa che fibbia montavano mi mi darebbe una mano perché non lo so non so se non era logata o se era simile a questo non lo so mi dispiace guarda io sto anche intervenendo poco perché sono abbastanza ammagliato da tutta questa roba che c'hai qua ecco tutte queste scatole gigante già una scatola di queste è gigante perché ne contiene una marea di orologio ne hai più di una tutte piazzate lì e non so cosa dirti bravo cioè da collezionista quali sono abbastanza evidente vorrei che fosse perfetto anche da quel punto di vista appena tornato dalla revisione piccolo restauro cassa perché era già ben messo una bella chicca lo adoro l'ho cercato tanto e quando l'ho trovato giugie lecute veramente amico gli altri avevano già fatti vedere il constellation il santos 100 il reverso il monaco ultimo arrivo ed ultimo orologio che vi mostro cartier tank basculante questa è una rarità e non l'ho ancora visto sul canale o magari me lo son perso sostanzialmente è diciamo il gemello del reverso perché ha un meccanismo d'apertura differente di chiusura e d'apertura differente ma il fine poi il medesimo come potete vedere si parla di che bello tira e si chiude adesso non lo chiudo totalmente giusto per comodità perché quel quanto non è il massimo della vita trovo molto 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 più elegante del reverso che era nato solo per principalmente per questioni sportive carica manuale non è quindi il quarto che è un attimino più piccolo è per quello che lo consiglio anche più raro questo è un 2001 2002 non è stato fatto per molto tempo ha fatto sicuramente meno fortuna del reverso che il mio è ricordi due face è un orologio eterno però questo sotto il polsino di una camicia un abito lo vedo molto più adatto del reverso e con una carrellata relativa alla mia ossessione ti mando un caro saluto saluto a tutti coloro che hanno seguito questo video cercando di essere più rapido possibile avrei voglia di raccontarvi molto di più di ogni mio orologio perché ognuno di questi pezzi ha una storia anche di ricerca di restauro quant'altro ma il tempo chiaramente quello che è spazio anche a tutti gli altri un saluto di nuovo spazio anche a tutti gli altri ci pigli anche in giro ci pigli per i fondelli abbiamo usato la scimmia qua in crisi cioè incominciare le crisi epilettiche a vedere tutti questi orologi messi insieme così una marea poi quando si dice no ma quando il tempo quando hai tempo di indossare questi orologi mai è possibile questi questi orologi qua non ce l'avrà mai il tempo di indossare guarda quando nemmeno una vita io ti do un 10 ti do un 10 ti do un 10 a questa collezione perché vabbè al di là proprio del valore economico che poi mi sa che abbiamo visto anche con maggiore valore economico no royal look tutti d'oro con i diamanti tempestati quelle robe lino ma qua oltre al valore economico c'è proprio la ricerca la passione si sente che è un appassionato ragazzi da uno che poi si mette lì a farli restaurare tutti a spendere soldi vuol dire c'è anche una bella disponibilità economica no da perché sennò non è da tutti avere tutti questi orologi qua e poi farli riparare però con una certa disponibilità economica potrebbe cercare di ostentare prendersi tutti quelli costosoni no per fare quelle insieme ai bracciali d'oro le colonne d'oro per far vedere che è ricco invece qua abbiamo comprato tutti i orologi anche economici vintage di un certo valore di pregio tutti fatti risistemare tutti fatti restaurare non revisionare restaurare proprio qua siamo di fronte al non plus ultra della passione proprio complimenti queste scatole gigantesche quante ne contengono 1 2 3 4 5 6 7 8 24 ognuno 24 24 24 24 24 siamo già quasi a 100 lì 150 150 160 orologi e poi di valore va bene bravo il 10 te lo sei beccato abbiamo anche sfatato il mito del 10 alle collezioni te lo sei portato a casa te editino inquisitore oggi fa così e se ne torna a cuccia perché qua non c'è proprio niente da giudicare bravo complimenti prossimo video ciao davide e ciao a tutti gli amici del canale amici sono davide ho 21 anni oggi volevo mostrarvi la mia piccola collezione di 5 orologi 5 che spero in futuro sia solo destinata a crescere ecco sono appassionato questo mondo da circa tre anni anche grazie a te davide a tutti i tuoi video e ti ringrazio ecco per portare un sacco di contenuti a noi appassionati dai dai allora iniziamo con il mio unico orologio al quarzo che è questo citizen tsuki yomi a 43 mm di diametro cassa 10,9 di spessore 100 metri di impermeabilità la e numeri le dati ricarica solare con due anni e mezzo di riserva di carica e il calibro è l'h874 moon phase radio controllato un bello orologio che nonostante le dimensioni importanti risulta leggero al polso data la cassa e il bracciale che sono in super titanio è il classico citizen è un bello orologino il classico citizen in super titanio ecco drive e radio controllato le tre caratteristiche per cui citizen può essere famosa o in un certo ambito no ecco drive radio controllato e super titanio perfetto ma l'orologio questo quasi che è veramente un orologio da tutti i giorni tra virgolette che ci puoi fare quello che vuoi tra virgolette che insomma perché la verità è che perché se si spacca non mi frega niente proseguiamo poi con il mio primo orologio automatico che è questo tisso o simpatico day date orologio a parer mio molto elegante ma si molto sia dalle dimensioni contenute infatti abbiamo 39 millimetri di diametro cassa perfetto ci piace ma anche dalla dall'eleganza ecco del bracciale la farfalla bel bracciale questo vero calibro eta 28 36 2 con 38 ore di riserva di carica l'unica pecca di questo orologio sono i 30 metri di impermeabilità per cui veramente poco ma se non ci devi mica andare a fare delle cose strane va bene seguiamo poi orologio diciamo da battaglia che è questo emilton cacchi king di questo orologio mi ha fatto innamorare la forma della cassa e il quadrante è a parer mio veramente uno dei migliori field watch che emilton abbia mai fatto il calibro è l'h40 con 80 ore di riserva di carica 40 millimetri di diametro cassa 11,15 di spessore e 50 metri di infermeabilità 50 già è meglio no questo orologio veramente lo uso spessissimo e non mi ha mai dato nessun tipo di problema e ogni volta che lo guardo riesco ad apprezzare tutti i dettagli e lo stile field ecco che emilton riesce sempre a dare ai suoi orologi si nel field watch perfetto non dovrebbe esistere il giorno della settimana cosa ce ne frega noi che andiamo sul campo sapere se lunedì o martedì già anche la data vabbè comunque proseguiamo poi con l'ultimo arrivato cos'è cos'è questo emilton da grande fan di interstellar e di christopher nolan non ho potuto farmelo scappare anche perché il primo uscito essendo da 42 millimetri lo ritenevo forse un po troppo grande dato lo stile dell'orologio per il mio polso eccolo qua questo è il primo esemplare che vediamo sul canale di un utente del morph da 38 millimetri con il bracciale che in dotazione con cui adesso arriva bravo te lo sei preso col braccialato bravo bravo e una volta uscito il 38 millimetri comunque non mi andava giù il fatto del bracciale in pelle ecco non mi faceva impazzire per cui appena hanno presentato la versione con il bracciale in acciaio ecco ho dovuto assolutamente farlo 38 millimetri appunto di diametro cassa 11,1 di spessore calibro h10 con 80 ore di riserva di carica di cui hai già parlato in uno dei tuoi video e 100 metri di impermeabilità di questo ologio veramente mi fa impazzire l'estetica del quadrante uno stile vintage ma non troppo riprende comunque i classici canoni dei field watch di hamilton ma con le sfere cattedrale la funzionalità e il messaggio che ha in interstellar è veramente a parer mio una cosa fantastica e per cui averlo al polso ecco è un'emozione ogni volta anche se l'ho acquistato da poco certo ti capisco bravo bravo questo concludiamo poi con il mio pezzo più importante acquistato due anni fa anche grazie ai tuoi video mi sono documentato molto prima di acquistarlo però mi ha colpito subito l'estetica cos'è ho dovuto farlo mio e poi da quando l'ho preso ho capito veramente la qualità costruttiva che ha questo orologio stiamo parlando del bravo 42 mm 42 scelto nero claude pari a parer mio i 42 mm di questo orologio sono sì non indifferenti però riesco ad apprezzare maggiormente la l'estetica del quadrante e tutti i dettagli in questa versione da 42 mm ho provato anche il 39 ma lo preferivo da 40 ognuno deve scegliere base al proprio gusto calibro ml 115 che non è altro che un sellite sv 201 con 18 ore di riserva di carica 200 metri di impermeabilità infatti a differenza degli altri orologi qua abbiamo la corona a vite e il fondello a vite 200 metri sono tanti per un orologio così questo orologio mi dà ogni volta soddisfazione perché si percepisce la qualità costruttiva che maurice lacroix mette in questo orologio i dettagli la satinatura e la lucidatura e poi il quadrante ripeto claude pari che è veramente stupendo è sì te lo appoggio l'ho fatta io la recensione questi erano i miei cinque orologi e spero appunto che la mia collezione sia destinata solo a crescere e ti ringrazio per tutto quello che fai per noi appassionati davide affigurati piacere mio grazie per il tempo che mi hai dedicato pubblicherai questo video da basta convenevoli saluto a tutti e buona continuazione buona continuazione buona continuazione c'hai la scatola da sei orologi e all'interno ce n'hai cinque sei ottimista sei ottimista perché dice ecco mi compro la scatola da sei così al massimo ce ne sta uno e a sei mi fermo incidenti vedrai che quella scatola lì diventerà troppo stretta a meno che non te ne compri un'altra da sei ma non ha senso tenerli separati no i bambini gli orologi i pezzi di afferro se c'è una scatola più grande te lo dico io cinque orologi tutti e cinque più che decenti anzi ottimi orologi non c'è nulla da dire chiaramente ma anche il primo l'eco drive quarto radiocontrollato rientra nei miei gusti cioè ci sta avere un quella tipologia di orologio lì per citizen se ce ne avesse 678 di radio controllati in titanio direi ma non ci siamo uno come orologio come esemplare di quella specie ci sta ci sta poi anche utile fa comodo poi potrebbe anche funzionare da capostipite per controllare tutti gli altri il tempo no io ti do un bel 7 guarda senza non è senza infamia senza lode è un bel voto però senza eccedere troppo senza andare troppo verso l'alto attendiamo poi anche il tuo quinto orologio no così mi mandi il video poi attendiamo anche il sesto mi mandi il video il settimo c'è una cosa quando arrivi a 10 mandami un altro video va bene tanto ci arrivi prima o poi te lo dico io che ci arrivi ciao davide sono alessandro 54 anni della provincia di genova bravo complimenti per come conduci il canale con simpatia e competenza e un saluto anche a tutti gli amici appassionati ma c'è ad subito iniziare al momento pochi pezzi perché come tanti si compra si vende nel corso degli anni e la mia passione è iniziata con questo negli anni 90 regalo dalla nonna per il diploma tagoyer crono 2000 con un robustissimo 77 50 brava nonna caterpillar è stato il mio everyday watch per oltre ora a vedere sto qua no perché anche nei scorsi video mi sono capitati dei tagoyer con queste degli anni 90 così no quanto sarebbe interessante ora incomincia a salire la scimmia di fare una collezione c'è una parte della collezione dedicata agli orologi degli anni 90 e si vedrebbero tutti questi stilemi no questi cavalieri questi bracciali questi stondeggiamento alla cassa al bracciale alle maglie un po un po di barocco no sarebbe proprio simpatico andiamo a spendere anche dei soldi per fare la collezione a parte degli anni 90 ci stanno ci vuole ci sta ci sta ci sta però sono belli cominciano a piacermi questi qua degli anni 90 da tanto che sono brutti diciamo la verità però cominciano anche a piacermi 30 anni d'altronde quelle lì erano anni in cui l'uomo doveva avere il crono poi se eri un figo ti compravi e avevi le possibilità ti compravi il daytona o magari con il movimento zenith brady cardizzato oppure direttamente del primero se eri un poveraccio come me il 77 50 equipaggiava un sacco di orologi dal brand brattling cronomat eccetera si aveva comunque un ottimo movimento e un ottimo everyday watch mi sa che mi sa che a zena il daytona che al momento ho sostituito con un onestissimo 6.5 bravo anche se ora mi è venuta la voglia di prendere magari un orologio di una categoria un po superiore avrei pensato al longin spirit e beh bravo al tudor ranger e bravo orologi satinati e cioè interamente satinati quindi poco delicati e di un certo livello di robusti insomma ma sì belli tutti e due scegli te poi recentemente ho preso questo o merci master che ha stessa estetica del quadrante del peter blake ma con quadrante blu cos'è 22 53 questo finitura non so se si vede a undine e a questo 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 quadrante che a seconda dell'incidenza della luce assume colorazioni dal violetto al blu profondo veramente affascinante ebbe cassa in titanio a io adesso ho messo questo cinturino ma titanio ovviamente ho il suo bracciale interamente in titanio classico omega che bellino che questo mi piace quelli questi si master 300 degli anni che furono c'hanno loro perché poi non sono tanto favorevole ai quarzoni ma ho preso questo che proprio un quarzone non è anche se si può dire un ibrido via gran seiko sdga 211 snowflake guardali che bello con lo spring drive bello sai movimento affascinante per la fluidità della della lanciata dei secondi che a movimento continuo che un po ricorda aveva avuto il bulov acutron che aveva questo movimento però lui si bilava qui invece c'è un assoluto silenzio bello questa lancetta azzurrata che scorre liscia su fondo bianco è veramente affascinante finitura impeccabili come solo gran seiko può proporre però ti dico la verità anologio talmente perfettino che mi emoziona poco infatti l'ho indossato veramente pochissimo ma è un peccato e quindi penso che presto lo venderò addirittura questo concetto qua dell'orologio troppo perfettino che non emoziona che non si indossa è curioso potrebbe anche essere vera questa cosa non ci ho mai pensato a che l'orologio perfetto potrebbe anche non essere interessante da da fammi pensare nei miei affetti quando uno c'ha un orologio che magari come questo qua che è un po svantaggiato no questo qua rimane indietro 30 secondi al giorno c'è qualche graffietto e quella eppure gli perdono tutto anzi proprio perché svantaggiato è come i figli quello più svantaggiato gli si vuole anche più bene no bravo c'è 30 secondi di ritardo poi lì è precisissimo precisino bello bello vabbè se non lo voglio piglio io anche se non è non mi interessa non mi interessa avere in collezione uno spring driver nel senso che è il calibro quello lì di gran seiko che come regolatore del tempo a un cristallo di quarzo no poi la carica la mola di carica il treno del tempo tutto quello che vuoteva una parte meccanica però alla fine quello che regola il tempo il punto di riferimento è un cristallo al quarzo quindi è gioco gioco giochi facili vinci facile no è bravo c'è il quarzo per controllare il tempo poi tutto quello che ci fa intorno non mi interessa però se riferimento al quarzo fai presto non mi interessa però chiaramente regalato lo prendere volentieri lo metto nella mia collezione lo tengo lì anche se non mi emoziona poi ogni tanto lo indosso scegliete siamo vicini genova lì ci mettiamo d'accordo ora se uscisse il bright in cronomat solo tempo potrebbe essere un bel sostituto aspettiamo e poi ultimo il mio diver faccio vedere scelta magari non comune anche qui il polpico le pronger c-type bello quadrante nero con indici e lancette arancioni e io ho abbinato questo cinturino in caucciù originale polpico in gomma arancione bello assai sto orologio qua cioè è particolare cioè non è difficile che possa essere la prima scelta per qualcuno no perché i polpico sono anche costosi a volte il design di polpico mi scade in cose in orologi che vanno ad assomigliare ad altri ma non sempre però quando si mette a fare le cose con un'originalità come in questo caso che poi possono piacere o non piacere è è meglio cioè è un po la vede un po come u boat che fa orologi molto particolari molto fuori dai gusti della maggior parte della gente ma perlomeno con personalità o ti piacciono o non ti piacciono no uguale questi qua questo qua però che carino ci avrà un età 2892 dentro anche abbastanza sottile lontano di scatola anche con un cinturino in cauccio nero e anche con il suo pensate cinturino in pelle che ci sta molto bene si fissa con le viti ok è finito questo monta millimetri monta un età ma ha delle finiture molto gradevoli queste sfaccettature e l'alternanza di superfici satinate lucide ne fanno un orologio secondo me particolare ok ho già finito bravo saluto e ti ringrazio grazie a te io tutta questa collezione qua di orologi che sono pochi 8 abbiamo visto qua oggi gente che ha una marea di orologi gente che ne ha pochi ma buoni l'altro ne aveva tanti ma buoni cioè non c'è poco da dire però anche pochi ma buoni al suo perché chiaramente il vantaggio di avere pochi orologi come hai te è che è che sicuramente te li godi li puoi indossare li puoi indossare quando vuoi ognuno lo indossi per un maggior tempo poi è un altro che ti meriti perché c'è il tagoyer al quartzo il secchino 5 quel bellissimo omegasy master lì 300 degli anni 90 che è da paura gran seico che tanto di cappello per la scelta che hai fatto perché lì ci ha speso dei soldi per avere un orologio fuori dal cuore completamente poi se non ti emozioni è un altro discorso e poi l'ultimo il polpico ma sì un ottino te lo do un ottino te lo do secondo me l'orologio che mi piace di più di tutta la tua collezione è il seamaster 300 che quando l'ho visto ho detto mi sarebbe bello però fare la collezione di tutti i seamaster famiglia per famiglia no quando sono usciti le vali referenze degli anni fino arrivare al 93 è falla facciamo anche quella lì no così tanto non non si spendono abbastanza no di soldi non orologi lasciamo perdere anche sta collezioncina qua limitiamoci a guardare gli altri che ce li hanno no perché l'erba del vicino è sempre più verde come si suol dire no prossimo video da ciao davide sono ciao complimenti per il canale ti presento la mia umile colazione umile umile va allora primo orologio è il 6 con ananta automatico ananta crono molto bello con cinturino in pelle il coccodrillo dove l'hai messo? il movimento 8 cr è bello questo al polso è un bel mattone mi piace molto sì ma non volete l'assù gli orologi siamo qua siamo poi l'ongine hydroconquest hydroconquest bellino nuovo 1 mm ghiaccio era uno dei miei preferiti poi c'è sempre questo mi piace tantissimo mi piace perché al polso fa una figura spettacolare e ci credo tanto lo conoscete tutti è molto una figata ah figata beh commenti così tecnici poi vai questo sotto tuo consiglio l'ho acquistato qualche mese fa mio consiglio il tisso carica manuale crono beh tanta roba 516 r bellissimo ancora le pellicole non neanche lo porto tanto però è un bel orologio sì però tutto destra lassù perché ho questo omega speed master automatico detto schumacher ah sì ha vent'anni e li mostra tutti ma il vetro cosa c'è il plexiglass lo devo fare inizionare devo far cambiare anche il vetro in plexiglass è tutto rovinato e anche la ghiera che non è al massimo diciamo vabbè il vetro plexiglass lo puoi anche lucidare te ti basta un po di polish un po di cottone un po di olio di gomito e ti metti lì alla sera no quando sei a guardare i cartoni animati alla sera ti metti lì lo lucidi così non ci pensi lo lucidi lo lucidi lo lucidi e alla fine viene almeno quello puoi farlo da solo no poi ho un tag goyer acquarese 500 in titanio giralo giralo a rovescio bello 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 un cinturino in gomma bellissimo nero pure lui bello ti piace così moderno a te mi piace tanto ma era mancino così buccia ma questo qui è un omega cenev oh che bellino la lunetta non è sua originale anche perché non sono riuscito a trovarla dai vari orologi ho cambiato ho girato molti orologi e non sono riuscito a trovarle ma questa è una storia molto particolare nel senso che questo orologio era di mio nonno mio nonno recandosi nel suo campo nel 54 si ricorda nel suo campo trovò per terra questo orologio che culo e tornando in paese andò dal bar e chiese se qualcuno aveva perso un orologio a a casa sua si presentarono tre persone e non fece la descrizione questo orologio e non azzeccarono niente e quindi mio nonno quella volta dice non è possibile che sono le tre persone se lo tenere è rimasto a lui fino a che non è morto e ecco l'ho preso io l'ho fatto revisionare bellissimo sto cercando la lunetta su originale certo che come è stato anche questo bracciale in acciaio a tema certo che come racconti degli aneddoti non li racconta nessuno c'è proprio trascinato dentro questo sembrava di essere lì negli anni cinquanta in questo bar sembrava proprio di essere lì però almeno tuo nonno ha fatto la prova l'ha fatta non la buona volontà ce l'ha messa di qualcuno sto orologio qua poi si presentano in tre infingardi e nessuno dei tre ti dice neppure come fatto l'orologio allora gli avrei dato un bel sganassone ognuno a casa fatto bene a tenersi chiaramente e poi era passato a te che lo tenere che market che mi piace sono molto sportivo mi piace l'orologio tutto in acciaio ecco ci ho messo questo qua bravo fatto bene usalo così divertiti poi una domanda su questo taggoia l'ho comprato pensando che fosse tutto originale tutto a posto non ci fosse nessun problema invece i commenti ho visto tante persone che mi dicevano che non era originale e altri mi dicevano che tutto che era tutto originale se qualcuno del canale sa dirmi da dove si vede se non si può vedere se originale oppure no se c'è qualche cosa di particolare movimento è il suo la ghiera è tosta non è lenta come dicono le lancette sono nella stessa lunghezza del dei minuti precisa boh non capisco dove può essere la corona se qualcuno del canale sa dirmi se qualche cosa di particolare fermiamo l'immagine qua un attimino ma lo so la corona mi sembra strana la corona di carica mi sembra un po' lunga che esce troppo fuori ma non conosco c'è tagore di acqua resser ne ha fatti una marea di sti modelli qua cioè veramente tanti c'era anche senza lenti magnificatrici questo qua sarà da 43 con il calibre 5s litte sv200 sarebbe sinceramente non lo so da dove si può vedere che c'è qualcosa che non va poi se te l'hanno detto magari ci sarà ma io non sono un esperto poi lo chiediamo agli amici nel canale qua ma come sempre quando si chiede un qualcosa che si parte dal già dal dubbio e poi ci sono quelli sotto che devono per forza dire sì allora è così e calcano la mano pur non essendo sicuri pur non essendo esperti non buttano dentro pur di darti contro ti dicono che non lo so io guarda l'unica cosa che vedo un po' strana è la corona che mi sembra troppo lunga però non conosco tutti i modelli in questo modello potrebbe essere giusta così però insomma se vai anche su scrivi la referenza su google prendi la foto e li metti di uno di fianco all'altro vedi se c'è qualcosa che non va capire se è originale oppure no io sono contento oppure certificato di carla garanzia tutto quanto ho provato a vedere sul sito di taggoi e se riesco a capire se è originale oppure no ma non ci sono riuscito a se qualcuno sa aiutarmi la ringrazio la ringrazio poi l'ultimo appisto è questo qui questo mega il top brand date e basta bello piace moltissimo il suo bracciale ce l'ho anch'io il bracciale così non far finta di non saperlo bello grigio bello c'è certi riflessi splendidi bello orologio da che bello e niente la mia collezione finisce qua graffiarlo così ringrazio a fare così ringrazio a quelli del canale si riescono a darmi una mano a se capire qualche cosa di più sul taggoi ciao 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 complimenti per tutti gli orologi perché sono tutti belli ora lì stavi facendo strusciare l'omega devil sul sul tavolo mi venivano i brividi la scimmietta si è tappata agli occhi così cioè mentre quando fanno non vedo non parlo non sento lei è tutta così non vedo non voleva guardare quella strusciata di bracciale armadillo mattoncini lucidissimo sulla scrivania a non fare così bello ce l'ho anch'io hai fatto fidata di non sapere che ce l'ho anch'io ma lo sai benissimo che ce l'ho anch'io io però ce l'ho con la riserva di carica power reserve e con i piccoli secondi a ore 9 è più bello il mio è più bello il mio dai c'è più c'è più quadrantini c'è più roba sopra è più bello il mio lo devo dire però io ti do un 8 un 8 per questa collezione qua che è veramente interessante tutti i begli orologi no poi ci si sente che se anche ti appassionato quello mega lì quel tago era acqua rester lì che ti hanno detto non lo so sinceramente se l'hanno fatto per prenderti in giro per scherzare per burlarsi per prendersi burla di te però io non vedo niente di particolare aiutateci voi espertoni che magari siete lì fate il fermo immagine andate a cercare su google magari ci avessi scritto la referenza avremmo fatto prima però si trova amici trovatela cercatela fate il fermo immagine andate a guardare e sotto scrivete no è perfetto no c'è poi ha detto che il calibro è anche suo vabbè io non so cosa dire comunque 8 te lo becchi perché c'è tutti i begli orologi e poi c'è quello mega di alla fine che almeno di un punto ti ha alzato tutto il voto perché mi fai concorrenza con quello lì bravo bravo amico mio complimenti e detto questo ragazzi i video sono finiti no che numero siamo arrivati a 5 sì sono finiti quindi io controllo se sono finiti era il quinto ragazzi vi ringrazio per essere arrivati fino a qua abbiamo guardato tanti bei video tanti begli orologi tanti bei personaggi e io vi ringrazio e vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao ciao ciao